Bene, vediamo adesso come importare in Cospaces degli oggetti da Sketchfab utilizzando la riduzione dei vertici. Per capire cosa facciamo, dunque questo è un oggetto che abbiamo importato da Sketchfab con tutti i suoi vertici. Per vedere tutti i suoi vertici basta andare in Edit Mode quindi andiamo in Edit Mode Vedete i vertici sono così densi che per vederli occorre praticamente avvicinarsi parecchio Vedete, questi sono tutti i vertici quindi tutti i vertici, quelli lì, costituiscono sostanzialmente un peso perché devono essere gestiti da Cospaces. Ora, se ci fate caso, queste altre madonne che abbiamo importato sono originate dalla stessa madonna utilizzando il Decimate e ho rinviato anche i punti vicini come ho fatto a vedere in un video vecchio adesso rifarò rivedere, quindi non preoccupatevi L'oggetto Sketchfab, comunque sempre come ho fatto a vedere in quegli altri video l'ho rimesso d'origine più o meno al centro vedete che adesso ho allineato l'origine alla geometria e ho ridotto perché era enorme quindi era difficilissimo da gestire ma dopo aver fatto questi due pezzi praticamente ho ottenuto un oggetto con una quantità incredibile di vertici, questa dopodiché su questa gli ho fatto una riduzione passando da quei vertici che vedete qua selezioniamo tutte, così vedete un po' l'operazione che abbiamo fatto andiamo in Edit Mode ecco, vedete che da qui a qui ho ridotto il numero di vertici di 10 volte quindi ridurre i vertici di 10 volte praticamente come vedete già li ha resi un pochino più raschi si vede particolarmente bene sul piedistallo e poi però ho continuato progressivamente a cercare di ridurre quindi ho cercato di ridurre praticamente quanto è possibile quindi ho ridotto prima mi sembra di 3-4 volte poi ancora di 2-3 volte e poi ancora di un po' di volte in modo tale dovete ottenere di fatto delle strutture abbastanza più rozze ma che all'aspetto visivo sembrano identiche perché sono identiche? perché quello che voi vedete viene reso sostanzialmente dalla texture quindi la cosa più importante che viene percepito dall'occhio è la texture non tanto le mesh di qui composta ecco perché se voi guardate questi oggetti che hanno una differenza abissale vedete che è vero che questi oggetti qua in particolare l'ultimo se volete che ha soltanto andiamo un po' a contarli ecco, vedete che sono 444 vertici cioè niente per intenderci una sfera a momenti ne ha di più di vertici però se vi accontentate di un risparmio un pochino non così forte quindi volete un qualcosa di un pochino qualche dettaglio basta questo che ne ha come vertici vedete 2000 sicuramente non abbiamo i vertici che avremmo praticamente in origine cioè che erano in questo caso 127.000 vertici, faccia sono importanti quali sono le cose comunque vi rendete conto che abbiamo semplificato parecchio ora, prossimo video facciamo rivedere di nuovo questo oggetto e vedere le tre procedurine che vi ho indicato perché permettono cioè prossimo video la prossima spezzone che permettono di arrivare a questa semplificazione ok, come promesso partiamo da zero usiamo questo plugin che permette di leggere Sketchfab lo avevo già spiegato ma nel caso voi potete importarvi l'oggetto non è importante ma è uno plugin Sketchfab che permette di cercare Madonna with Child ce l'abbiamo vediamo che è quella grossa quindi 111.000 vertici e la importiamo tranquillamente nella nostra scena una volta che ha finito l'import vedete che succedono un po' di cose cioè praticamente ha importato la nostra vedete, la Madonna però è un formato enorme quindi oltretutto questo formato qua è, come vedete è un po' strano perché è fatto intanzitutto è costruito da tre oggetti quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere uno due tre oggetti andare qua e fare CTRL J in maniera tale di averne un solo oggetto e questo oggetto diciamo diventa la nostra Madonna che però dovremmo praticamente scalarlo di parecchio perché vedete che è enorme quindi lo scaliamo di 0.01 quindi un centesimo quindi facciamo qui S 0.01 ok e a questo punto però vediamo che la nostra non c'è perché non c'è la Madonna perché è da qualche parte in cielo e per vederla dobbiamo cliccare su oggetto andare qua e premere il punto quindi vedete che è molto in alto e a questo punto dobbiamo vedete questa è l'origine che è spostata moltissimo appunto in cielo come giusto che sia per la Madonna quindi lavoriamo con oggetto set Origini l'origine quella lì la mettiamo nel 3D cursor che se non l'avete spostato è allo 0.00 quindi vedete che è sparito il cursore c'è quella origine e poi facciamo ancora set Origini e facciamo Geometry to Origin come vedete a questo punto se noi facciamo punto che il punto ci permette di vedere e abbiamo che la nostra la nostra Madonna è all'origine ora perché sia fatta per bene occorrerà ancora praticamente alzarla quindi praticamente la la selezioniamo e con G praticamente Y la tiriamo anzi sarebbe Z scusate l'alziamo in modo tale che stia praticamente in piedistallo sia sull'origine per vederla bene fate 1 del tassegno numerico poi fate G G aspetta G G Y comunque anche così va bene basta comunque già così va bene nel senso che è piccoletta quindi è piccoletta senza enorme ma piccoletta però è almeno nelle dimensioni che possiamo usare ora a questo punto questa questa Madonna fatta così avrà le caratteristiche che abbiamo visto prima cioè se facciamo Tab vediamo tutti i punticini quindi come facciamo per ridurre i punticini allora io qui per farvi rivedere cosa ho fatto prima prendo questo oggetto faccio Shift D per duplicarlo per mettergli a fianco e lavoriamo con l'oggetto a destra questo anche per evitare che se per caso sbagliamo tanto per vedere che cosa stiamo facendo cioè se stiamo peggiorando qualcosa eccetera quando poi andrà bene possiamo poi cancellare l'immagine originale ok quindi andiamo su questo andiamo poi sul Add Modifier andiamo sul Decimate in questo caso proviamo a decimarlo quanto più possibile quindi per esempio decidiamo di un decimo quindi 0,1 o 0,05 direi che è una buona cosa ok quindi andiamo su Razio 0,05 clicchiamo e se andate su 11.000 11.000 vertici 11.000 vertici però vedete che si comparsi un po' di problemucci questo perché ci sono dei vertici strani messi male quindi facciamo qui facciamo togliamo il Decimate li vediamo qua in questa statua che stiamo facendo facciamo un'ottimizzazione che vi avevo insegnato cioè che è quella di andare in Tab cioè in Edit Mode e qui andiamo su Mesh e facciamo sul Clean Up e clicchiamo il Merge by Distance e il Merge by Distance li mettiamo 0,01 come avete visto qua facciamo Tab ok quindi praticamente il Merge by Distance dovrebbe aver funzionato dovrebbe aver ridotto in termini si era aspettato che l'avesse detto quante ne aveva tolto il Merge by Distance 0,01 ok in questo caso rimuo di 0 vertici probabilmente prima l'ha detto quanto ne aveva rimosso prima e a questo punto una volta che abbiamo rimosso i vertici facciamo di nuovo quel discorso di prima andando però in Edit Mode facciamo Add Modifier Decimate e qui facciamo 0,05 facciamo Tab e vediamo quante facce ti ha generato e facciamo anche l'Apply ok quindi queste due madonne sono sostanzialmente identiche nel senso che se le guardiamo avranno più o meno le stesse caratteristiche una un po' più precisa ma per Querspace non è il caso insomma invece questa qui è un po' più leggera molto più leggera però per il resto va tutto bene quindi questa qua che ha per sapere quanti vertici ha facciamo Tab mentre siamo lì sopra e vedete che ha molti meno vertici e ha in particolare 5561 vertici ok e non ha quei difettini che abbiamo visto quando abbiamo applicato il Decimate senza rimuovere i vertici vicini 0,01 che avete visto che abbiamo fatto prima ok quindi a questo punto dobbiamo concentrarci nell'export di questo della madonnina di questa e lo vedremo tra poco ok allora il pezzo successivo consiste nel mettere a posto le texture sappiate che Ecospace non supporta moltissime texture e soprattutto non supporta una serie di shader che spesso vengono utilizzati da Sketchfab quindi bisogna in pratica rifare tante volte di shader quindi vuol dire che andiamo nella nostra finestra dello shading questo clicchiamo sull'oggetto di cui vogliamo aggiustare lo shader andiamo sullo shading e vedete che tutta questa roba qua che vedete è troppo complicata per Cospaces e quindi bisogna praticamente rimuoverla tutta quindi praticamente bisogna rimuovere tutto ciò che c'è praticamente facciamo la selezione praticamente di tutto tranne l'ultimo blocco fate Canc se non riusciamo ah no così dovremmo potremmo anche farcela praticamente facciamo così cancelliamo vedete che vi ho cancellato tutti i shader ok e gli mettiamo a questo punto uno shader cioè rifacciamo il shader quindi come facciamo a fare lo shader allora lo shader che apparentemente è più complicato ma in realtà è più semplice e lo shader praticamente principled il principled praticamente è lo shader più semplice che esiste no nel senso che permette di fare tutte le cose con un unico blocco invece prima se avete notato c'avevamo tantissimi blocchi in particolare quello che a noi interessa di questo shader è il colore base e nel colore base dobbiamo mettere l'unica immagine che ci interessava che era questa qua che era l'immagine default matodiffuse si chiama e questo default matodiffuse dobbiamo aggiungerla come texture qua facciamo mettiamo l'image texture questa gli mettiamo la default matodiffuse che è questa che abbiamo visto qua che la vediamo dall'elenco colleghiamo a suo base color e vedete che abbiamo praticamente il materiale che si vede praticamente nelle 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 due madonne ok quindi queste due madonne in questo momento condividono lo stesso materiale e il materiale è questo qui principled perché vi ho fatto questo mestiere perché se non lo facciamo non riusciamo a esportare il texture ci sono anche molti altri sistemi per esportare però se vi abituate a pensare in termini di principled questo shader qua è più semplice poi in realtà tutto il mondo blender diventa improvvisamente più pulito e quindi l'unico gradino che dovete semplicemente attraversare è mettere diciamo questa questa scelta un altro motivo per cui questa madonna diventa molto grossa è perché questa texture in particolare se andiamo a vedere con l'image che c'è qua mettiamo N qua e poi allarghiamo e vediamo image qua vedete che questa immagine qua è 8192 per 8192 quindi è molto grossa allora per riuscire a ridurre le dimensioni di questa immagine dovete selezionare qua l'image e fare un resize e ridurre la dimensione più male la dimensione più male possono essere 1024 per 1024 512 per 512 512 per 512 sicuramente occupa pochissimo spazio quindi facciamo 512 per 512 facciamo ok l'immagine come vedete si rimpicciolisce sembra identica ma in realtà è diventata un po' più rozza e la controllate sempre dal layout vedete che l'immagine è un po' meno definita però comunque si capisce una volta portata in co-spaces comunque dovrebbe andare ancora bene nel caso che lo resta un pochino più definita per vedere praticamente meglio alcuni dettagli potete tenerle a 1024 però avendo la messa 512 sicuramente l'abbiamo messa questa immagine praticamente in una situazione di minor consumo possibile facciamo ancora automatico pack che sono necessarie e proviamo di nuovo a esportare questo disegno quindi facendo questa madonna quindi la selezioniamo facciamo file export e la portiamo su io fbx mi trovo molto bene quindi portiamo un fbx ricordiamoci di impostare quando importiamo fbx il path mode a copy e poi cliccare questa opzione in modo tale da avere la copia delle texture dentro l'fbx ricordiamoci di fare limited to selected objects e direi che tutte e poi ricordate di mettere il principled qua madonna 5k principled con texture 519 ok quindi facendo questa cosa qua facendo export fbx a questo punto dovremmo avere praticamente l'export del nostro oggetto fbx allora l'oggetto fbx ok ho pascolato un attimo perché l'immagine quando fate questo resize dovete ricordarvi di cambiare nome e di salvarla quindi ho fatto immagine save as l'ho salvata praticamente con un nome nuovo e poi ricordate appunto di usare appunto nome nuovo nel riferimento qua ho chiamato default matdiffuse aa.jpeg perché altrimenti si conserva un po' possono esserci dei problemi nel senso che continuo a usare in realtà la vecchia texture il vantaggio di tutto questo ragionamento è che quando poi vado a fare l'export quindi l'abbiamo visto anche prima con fbx quindi fbx lo faccio ridere un attimo per sicurezza quindi facciamo fbx e andiamo su qua pat mode copy qua select object qua quindi l'ho salvato su madonnina 5k principal texture 512 non so se vedete che rispetto al salvataggio precedente in cui non avevo rinominato la texture siamo passati da 21 megabyte a 508 kilobyte quindi una differenza che è abbastanza abissale e soprattutto ecco non guardate queste altre prove che ho fatto prima quando non avevo messo il principled che non salvava le texture quindi diventava piccolo adesso questa versione qua che vedete che è questa quindi la vediamo qua 512 fbx 509k se io la apro in probabilmente all'interno di windows vedete che vedo praticamente la mia statuina non è perfetta come quella originale ma tenendo conto che è grossa diciamo mezzo mega contro 11 quindi praticamente 20 volte più piccola 20 volte più piccola e tutti gli effetti conserva molte delle caratteristiche dell'originale perde forse un po' di lucentezza un po' di riflessi ma insomma nel mondo tipo Cospaces queste cose si notano abbastanza poco prossimo passo è invece importarlo dentro dentro Cospaces e quindi vi faccio vedere come diventa vedete qui stavo provando ancora altre cose altre madonnine prendiamo la nostra madonnina da quella che abbiamo visto 509k e la proviamo a infilare direttamente qui vedete che prendiamo copy da questo programmino qua full name e poi facciamo l'upload e gli facciamo praticamente riprendersi questa madonnina ok quindi praticamente facendo l'upload di questa madonnina dovrebbe entrare dei 3D model anzi no non l'ha fatto facciamo upload madonnina questa facciamo open ok facciamo l'upload e se è abbastanza corta si piega se tutto va andato bene è abbastanza poco ed è questa dovrebbe essere questa qua che se mettiamo praticamente dentro la nostra scena vedete che ha conservato le sue caratteristiche poi la riduciamo eventualmente alle dimensioni che ci interessano eventualmente la è per le altre madonna questa madonnina quindi quella giusta la alziamo in modo tale che abbia il peristallo sopra e a tutti gli effetti se la confrontiamo con quella originale che era quella che quella che era molto pesante abbiamo visto prima vedete che la differenza è che quella originale è molto più lucente riflette un po' meglio probabilmente perché in quel caso lì avevamo conservato nel Principled anche un po' di riflessi che adesso noi non non li portiamo dietro però facendo in questo modo abbiamo risparmiato 20 volte lo spazio su Cospaces che direi che è parecchio quindi un pochino meno bello se volete però il senso se il senso era quello di pensare di avere una madonnina ecco più che conservato e con questo direi che è tutto va bene bene